Oggi è stato il giorno del primo giudizio, elegito del processo di primo grado che si è concluso oggi in tribunale a Rovaretto di fronte al giudice Carlo Ancona per il reatto di lottizzazione abusiva nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del compendio ex Argentina ad Arco. Un mese di reclusione a Roberto Miorelli, legale rappresentante della Cosmi Costruzioni, assolto Stefano Bresciani, vice sindaco di Arco. Stessa pena, un mese, che probabilmente avrà uno strascico anche politico, è toccata a Bianca Maria Simoncelli, dirigente dell'area tecnica del comune di Arco, e un mese anche per i tre progettisti Alessio Bolgan, Bruno Ferretti e Mariano Zanon, assolti, oltre a Bresciani, la funzionaria comunale Tiziana Mancabelli e i componenti esperti della Commissione Edilizia di Arco, Giorgio Bellotti e Massimo Favaro.